Non ci passi, scusami. Non ci passi, scusami. Non ci passi. Carabinieri, sanitari del reparto di veterinaria dell'Ulsei e Ugane, responsabili dell'attività, tecnici comunali e sindaco Italo Perfetti in sopralluogo, alla Solar di Galliera Veneta, azienda chiusa a dicembre, dichiarata fallita lo scorso febbraio, che ha abbandonato nel piazzale antistante il capannone, sacchi di farine e silo scarichi di olio e grassi animali, frutto della lavorazione della ditta. Una situazione tremenda, segnalataci giorni fa dal proprietario dello stabile, esasperato dagli odori nauseabondi e insopportabili. Al nostro microfono, ricorderette, aveva avanzato una richiesta ben precisa. Chiedo che qualcuno intervenga prontamente, soprattutto per portare via queste farine e dare una pulizia, o che, per favore, chiedo che gli diano lo sfratto, che vadano via, che vadano via, basta. Voi abbiate così la possibilità? Di avere lo stabilimento. La preoccupazione di Lorenzina è anche legata all'eventualità che possa scoppiare un incendio nel capannone. Pericolo scongiurato lo scorso luglio, quando prese fuoco l'edificio retrostante. Se prendono fuoco di nuovo, qua dentro ci sono 30.000 litri di olio diatermico, che è infiammabile. Quindi sarebbe una vera e propria bomba? Una bomba ecologica. Bene, dopo il nostro servizio, qualcosa dunque si è mosso con il sopralluogo delle scorse ore.